Il Berserker o Berserkir o Berserkr è un personaggio molto presente nel genere fantasy, selvaggio dalla forza straordinaria, tutto muscoloso e il più delle volte mezzo nudo. Ma quali sono le sue origini storiche? Sono esistiti per davvero guerrieri del genere? Per saperlo bisogna tornare indietro alle saghe medievali nordiche, in particolare a un testo del XIII secolo che recita «Vennero avanti senza armature, pazzi come cani o lupi, e si mordevano gli scudi, forti come orsi o tori selvaggi. Uccidevano gli uomini con un solo colpo ed erano immuni sia al fuoco che al ferro. Il loro nome era Berserker». In questo frammento di testo medievale c'è l'elemento della nudità, della forza sovrumana associata agli animali totemici più comuni della mitologia norrena, lupi, orsi, e ovviamente è presente anche la propensione a uccidere. Quindi parebbe una fonte più che sufficiente per attestare l'esistenza di questi guerrieri, se non fosse che al momento in cui fu scritto questo testo la cosiddetta epoca vichinga era già finita da quasi due secoli. L'Occidente nel 1200 era già ampiamente cristianizzato, fino alle più sperdute isole del nord. E quest'autore, influenzato dall'avvento della nuova religione e delle numerose novità sociali e culturali, probabilmente di Berserker non ne aveva mai visto neppure uno. Scrivendo queste saghe quindi si limitava a riportare vecchie tradizioni orali, magari rimaneggiandoli un po' e mettendoci del suo. Non ci resta, allora, che andare ancora più indietro nel tempo per cercare delle fonti che ci parlino dei Berserker contemporanee all'epoca di maggiore espansione delle popolazioni norrene, ovvero quella che alcuni storici chiamano appunto l'epoca vichinga. E c'è un episodio, pergiunta abbastanza epico, che narra di un guerriero perfettamente aderente alla descrizione di Berserker. Si tratta di un norvegese che riuscì a fronteggiare da solo l'intero esercito anglosassone. Siamo nell'anno 1066, il re di Norvegia, Harald Ardrade, salpò con i suoi incursori vichinghi per invadere l'Inghilterra. Appena sbarcato, vinse qualche battaglia e si accampò nei pressi di un fiume per far riposare i propri uomini. Il re d'Inghilterra, Harald Godwinson però, si dirigeva sprombattuto verso di lui e al termine di una rapidissima marcia forzata, sorprese gli invasori mentre bivaccavano, sparsi tra una sponda e l'altra del fiume. I vichinghi non riuscirono neppure a indossare l'armatura, che furono attaccati e costretti a ripiegare, attraversando in fretta e furia l'unico ponte che collegava le due sponde, Stanford Bridge. La leggenda vuole che uno dei vichinghi si piazzò in mezzo al ponte per guadagnare tempo e dare modo ai propri compagni di passare e andare via. Da solo tenne a bada l'intero esercito anglosassone, che, nello stretto passaggio, non riusciva ad avere la meglio sul vichingo, questo indiavolato norreno. Gli inglesi venivano fatti a pezzi, uno dopo l'altro, e scagliati di sotto dal ponte. Cadevano come mosche sotto i colpi d'ascia che grondava sangue. Il berserker resistette per un'ora, finché i nemici non lo trafissero con una lunga lancia da sotto il ponte, passando di nascosto su una barca. I vichinghi furono sconfitti e il re norreno Harald morì, trafitto da una freccia alla gola. Le sue avventure si conclusero, in terra straniera, nel tentativo di conquistare l'Inghilterra, ma riecheggiarono fino ad oggi, grazie ai viaggi straordinari, alle imprese che portò a termine, in gioventù, dagli scontri con i pirati arabi, alle battaglie combattute al soldo dell'imperatore di Bisanzio, tra le file della mitica guardia variaga, ovvero dei norreni che erano scesi per i Balcani fino a raggiungere la Grecia, fino a raggiungere Costantinopoli, che all'epoca era parte dell'impero romano d'Oriente, e divenire quindi l'unità d'élite dell'imperatore. È pazzesca questa storia, perché dei vichinghi che finirono a combattere per i bizantini è subito leggenda. La storia del misterioso e presunto Berserker, che da solo fermò un esercito con la sua ascia, si colloca nell'anno conclusivo dell'epoca vichinga, il 1066, poiché convenzionalmente la battaglia di Stamford Bridge viene considerata l'ultimo atto dell'epopea di questi razziatori e pirati norreni prima della loro evoluzione. Già perché in quello stesso anno, un altro popolo che condivideva la stessa stirpe nordica, decise di invadere l'Inghilterra per conquistarla, e ci riuscì. Mi riferisco ai normanni guidati da Guglielmo il Conquistatore, che poi, dopo la vittoria, si sparsero in tutto l'Occidente, incidendo non poco sulla storia medievale europea. Ma possiamo fare di più nel ricercare le origini del Berserker. Possiamo andare più indietro nel tempo, sfogliando il cosiddetto Dialogo del Corvo, o Canto di Harald, scritto nel tardo nono secolo. Qui siamo nel periodo d'oro, delle incursioni operate dalle popolazioni nordiche e germaniche, che percorrevano le coste europee per saccheggiarle, conquistare, sterminare. Perché è importante ricordarlo, ancora non l'ho detto, ma i vichinghi non sono una popolazione, ma un'etichetta che indica generici guerrieri norreni che facevano di mestiere il pirata. Quindi il termine vichingo di per sé è abbastanza superficiale e vuol dire ben poco. Però, senza stare a fare i puntigliosi, siccome nel parlar comune il termine vichingo è usato e tutti ci si intende, più o meno, va bene, lo usiamo lo stesso. Nel dialogo del corvo compare un brano che descrive dei guerrieri furiosi. Forse la prima descrizione di Berserker di cui abbiamo traccia. E ora la leggo. Essi vengono chiamati guerrieri lupo. In battaglia portano scudi sporchi di sangue. Così, come rosse, sono le loro lance. Formano un manipolo serrato e il re, nella sua saggezza, ripone la propria fiducia ai uomini simili che sanno spezzare le difese nemiche. Vengono chiamati guerrieri lupo. L'assonanza con il lupo non è casuale. E l'abbiamo già trovata nel primo frammento, quello del XIII secolo, dove si parlava di lupi, orsi e tori. Il lupo, in particolare, viene spesso associato con il furioso Berserker e sembra simile a quegli antichi cinocefali del mondo greco-romano di cui vi è traccia perfino in Italia e forse alle prime leggende che riguardano il lupo Mannaro. Sulle origini del lupo Mannaro nel mondo greco-romano ne ho già parlato in una leggenda affilata che consiglio assolutamente di andare a recuperare perché è piena di aneddoti e dettagli che suonano modernissimi. Riguardo i guerrieri lupo, però, una delle prime testimonianze compare proprio in Italia, nella Storia dei Longobardi di Paolo Diacono, scritta più o meno nel 780. La cronaca narra che i Longobardi in principio fossero originari della Scandinavia e che furono obbligati ad abbandonare la propria terra a causa di una grande carestia. Per migrare in luoghi più fertili si incamminarono attraverso le lande della Germania affrontando un viaggio colmo di pericoli. Durante la marcia si scontrarono con una popolazione di guerrieri chiamati Assipitti e l'esercito degli Assipitti era imponente così enorme che i Longobardi non osarono battersi con loro perché erano troppo pochi stanchi affamati e quindi decisero di escogitare uno stratagemma per oltrepassarli. Simularono di avere con loro dei cinocefali cioè uomini con testa di cane e fecero correre voce tra i nemici che questi esseri fossero combattenti forti ostinati che bevevano sangue umano tra l'altro. Racconto questo episodio e il fantastico viaggio dei Longobardi verso l'Italia in un altro episodio dedicato di leggende affilate anche questo che deve essere assolutamente ascoltato perché è meraviglioso. Girano quindi molte storie sui Berserker molte riguardano la loro ira barbarica il Berserker Gang ovvero una sorta di trans guerriera c'è chi dice che fosse uno stato di trans autoindotta poco prima della battaglia e che facesse cadere il guerriero in preda a una frenesia incontrollabile lasciandolo poi stremato al termine dei combattimenti c'è chi dice che questa ira fosse dovuta all'assunzione di sangue di lupo oppure di orso o di sostanze psicoattive come quelle contenute in alcuni funghi quelli velenosi soprattutto e infine c'è chi parla di porfiria una malattia spesso legata alla licantropia e quindi riconducibile ancora una volta all'analogia con i guerrieri lupo e addirittura con i lupi mannari e il vampirismo berserker mannari portatori di una malattia genetica che li spingeva al massacro ma insomma già lo capiamo queste sono tutte ipotesi che formano un gran minestrone privo di fondamento perché sappiamo davvero pochissimo sull'argomento e le fonti tutte queste informazioni come già abbiamo detto compaiono innanzitutto in maniera labile e superficiale nelle fonti scritte e a partire dal tredicesimo secolo dal medioevo inoltrato ovvero secoli dopo la fine dell'epoca vichinga il che rende queste fonti decisamente poco attendibili per fare un paragone sarebbe come studiare le guerre napoleoniche attraverso documenti scritti durante la seconda guerra mondiale da autori vissuti svariate generazioni dopo i fatti e che riportano quello che si è tramandato oralmente fino a quel momento non è così che si studia la storia o almeno non è così che amo fare io una cosa però è certa i berserker così come i cosiddetti vichinghi non portavano elmi con le corna e nemmeno con le alette piumate tipo asterix si tratta di un'invenzione teatrale ottocentesca tra le altre cose per rendere i costumi di scena più accattivanti per il resto invece la furia guerriera la sete di sangue la forza straordinaria e poi il caratteristico petto nudo sembrerebbero far parte del mito già nel medioevo e perfino prima nell'età antica rendendo questo personaggio ancora oggi affascinante soprattutto all'interno del genere fantasy e anche all'interno della storia quella un po' speculativa magari se questo episodio ti ha appassionato e non vuoi perdere l'occasione di vivere altre emozionanti avventure storiche seguimi e condividi l'episodio con le tue conoscenze più affezionate e assetate di sangue così mi aiuterai a diffondere il verbo affilato alla prossima leggende affilate gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara grazie a tutti